Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI per una frana avvenuta proprio in FIPILI al chilometro 79 e 865. Sul raccordo Siena-Filenze è scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Si ricorda che la statale 64 Correttana è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia Romagna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!